ah eccolo eccolo che cosa rappresenta questa tela guardate il catalogo impressione ne ero sicuro ci deve essere dell'impressione là dentro e che libertà che disinvoltura nell'esecuzione la carta da parati allo stato embrionale è ancora più curata di questo dipinto ma cosa avrebbero detto bidot boaselier bertan dinanzi a questa tela importante non venitemi a parlare di quegli schifosi pittorucoli